Ma qui abbiamo qualche dato sulle pensioni di invalidità. Le pensioni di invalidità sono, abbiamo diviso per sud centro-nord, fonte IMSS, anche questa non è la fonte Lega, al sud sono 8,90%. Vuol dire che all'incirca ogni 100 persone, quasi 9, sono invalidi e prendono quindi la pensione di invalidità. Al centro siamo al 6,73%, al nord 4,99%. Adesso io non credo che al nord abbiamo una vita particolarmente sana e siamo particolarmente fortunati. Io credo che ci sia qualcosa che non quadra. E lo dico perché voi pensate che se in Italia tutti avessero la percentuale di invalidi del nord, ci sarebbe un risparmio di 6,5 miliardi all'anno. Vuol dire che avremmo già risolto la questione esodati abbondantemente, avremmo agevolato le imprese abbondantemente e avremmo magari aiutato anche i giovani a trovare un posto di lavoro.